... Incidente questa mattina, venerdì 24 agosto, poco prima delle 11.30, sulla provinciale 13 che collega Busano a fronte. Ad entrare in collisione un furgone for transit e un fuoristrada Toyota. I due mezzi sono usciti di strada finendo con la parte anteriore nel fosso che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castellamonte, il 118 e i carabinieri della radiomobile di Veneria Reale. Il conducente del furgone, ferito e trasportato al pronto soccorso, è uscito grazie all'aiuto dell'altro conducente, che invece è rimasto illeso. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.